Musica 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 la mia famiglia è stata presa, noi come famiglia lo único che speriamo è che se faccia e che lei paga per lo che le hizo, la mia, di vero che io solo pensare, solo dicere, non mi ha dato, non sai, perché la mia famiglia fu violata via anal, varie volte, quindi per noi come famiglia è stato molto terribile, noi lo che chiamo è che se faccia, la media di coesione fu passata per il lunedì, perché il imputato non ha abogato, e nada, justicia come se dano conto di cosa sta succedendo, come se dano conto? noi non abbiamo conto, perché a suo padre lo chiamaron, che la mia stava sendo maltratata, quindi di una volta ci siamo arrivati, perché la mia vive nel aguacate, quindi quando fuimos allà, noi traiamo la mia per qua, e noi per prendere la mia, perché la mia dice che quando la mia si stava bagnando, lei abriva la ventana del bagno, lo che hicimos fu che la chiamavamo per la fiscalia per violenza, quindi una ginecologa forense determinò che la mia aveva stata abusata, e la fiscalia le dio seguimento al caso, se hizo unos procedimenti del lugar, la mia si enviò al psicologo, al principio la mia non voleva parlare, però poi con il seguimento che le dano i psicologi e tutto, la mia dice che stava siendo abusata per il suo padastro, e che non ha detto nulla perché aveva miedo. abbiamo il depredatore preso, io exijo giustizia, pena massima per il abusatore. Con cui vivia la mia? Con su madre, però che cosa è che la madre di lei, sta terminando su studio universitario, già sta in la finale, anche lei vende, lei tiene un negozio independiente, entiende, per superarsi la mia, tu sai. Quindi, lui, sembra che quando si avessero qualcosa di quello, nel momento indicato, sembra che si avessero per abusare della mia, giustizia, nulla più che giustizia. ... ... ... Grazie a tutti.